Uno scenario incantevole, un'acustica perfetta, l'emozione della musica e le vibrazioni del bel canto. Sono stati questi gli ingredienti del concerto di Natale organizzato dall'Associazione Danza in Lirica a Villa Doria d'Angri, in collaborazione con l'Università Partenope e con il patrocinio della Regione Campania. Protagonisti della prima parte della serata sono stati il pianista Marco Ciampi, che con l'orchestra sinfonica Busoni diretta da Raffaele Lopez hanno eseguito il concerto numero 2, opera 18 di Rachmaninoff. Calorosi sono stati gli applausi ed un bis del pianista hanno chiuso la prima parte del programma. Il celeberrimo intermezzo di Mascagni, eseguito dai componenti dell'orchestra, ha aperto il secondo tempo della serata, durante la quale sono state esaltate le qualità canore del tenore Michele Maddaloni e del soprano Alessandra Krog, che hanno interpretato con maestria le più belle aree d'opera di compositori italiani da Verdi a Puccini, completando lo spettacolo con la celebre aria Libiamo negli Eticalici, il brindisi in tempo di Walzer del primo atto della traviata di Giuseppe Verdi.